Anno 2020 Dopo il 2000 Generazione nuova Siamo verso gli anni 3000 Nella generazione nuova Anno 2020 Anno 2020 Che stai arrivando Che stai arrivando Portaci tante buone notizie Portaci tante buone cose Non darci problemi Non darci più problemi Anno 2020 Che stai arrivando Nuova generazione 3000 Nuova generazione 3000 Anno 2020 Nuova generazione 3000 3000 Nuova generazione 3000 Nuova generazione 3000 Anno 2020 Anno 2020 Anno 2020 Nella generazione nuova Anno 2020 Anno 2020 E allora abbiamo finito di rompere i coglioni? Eh? Eh? Cosa succede? Questa sera è... Oddio amore mi sono dimenticato una cosa fondamentale Buonasera a tutti E spegnere le luci dietro di te Non potresti fare per cortesia Mi rovina la scena Buonasera Moderiamo i termini Leandro, eh? Leandro ha detto Adesso ti testo le parole a Torriganza Quella stronza che hai dietro Non ne parliamo Leandro Sto cercando Lavoro di Rocchenko Rocchenko, bravo Rocchenko Proverso di Rocchenko Gli occhi Capra Ho gli occhi E un po' il naso E' una cosa da Rocchenko, eh? E' una cosa da Rocchenko, eh? E' una cosa da Rocchenko Lo fanno E' una cosa da Rocchenko E' una cosa da Rocchenko Allora? Come stai? Cosa ci racconti? Con la festa? Come va? E' una cosa da Rocchenko al bancone, si dice bancone o balcone, cosa intendi? Balcone, forse terrazza, quindi balcone. Ma qualcuno non mi dà sostegno emotivo e poi mi devo fare le pippe per rimediare. Tu ti fai le pippe? So io perché ti fai le pippe, Andro. Beh, se vogliono bersi una birra al banco, al bancone, Andro, queste tippe, queste vecchie, falle con me due chiacchiere, falle con me. Veditela con me. Che chiolenza incredibile, tra l'altro. Come stai, Andro, a parte gli scherzi e i giochi, i giochi di ruolo? Guardate un po', guardate un po'. Capito? Di cosa stiamo parlando? Capito? Guarda che cambio discorso. Perché? Quando mai ho sbattuto? Dimmi, Andro, qualcosa di serio. Intavoliamo un discorso serio, per l'amor della Madonna e di Dio. No, da piccolo mi sono fatto tre punti qua, ma non era su un bancone, balcone, bancone, non lo so. Leandro mi bullizza, amore. Devi bannarlo. Ma veramente? Il potere lo faccio io qua. Il potere lo do, il potere lo tolgo. Insegnisco e abolisco. Razio depredo. Fornico. Vero, Altricanza? Cosa vuol dire di preciso fornicare? Fare l'amore. Fare l'amore. Beh, allora fornico. E come se fornico. Vero, Altricanza? E invece gli andrò lì triste che si fa le pippe. Posso sfotterlo? Certo che posso. È colpa... È nelle mie mani. Il potere, la scivolizia, le cose. Chi è sta Veronica? Leandro è incattato nero. Pietro di merda, dio bastardo, ha detto. Ha scritto, testuali parole. La mano supersonica. Che neanche si vede come un vero, Leandro. Veronica ha la mano supersonica. Non la sapevo questa però, eh. Veronica ha la mano supersonica. Su, la sapevi? Amore. Sì. Veronica ha la mano supersonica. E poi chi c'è? Federica ha la mano amica. Federica ha la mano amica. Poi chi c'è? Ignazia, la mano che ti spazia. Ernesta ha la mano lesta. Ernesta ha la mano lesta. Poi? No. Giuliana, la mano che ti risana. Magico Pingu, come stiamo? Fai le penne ancora in giro? Organizziamo il rinzio ora. Fai il club, ora. Giovanna, la mano con la panna. Brigitte. Brigitte, amore? La mano? Col flint. Col flint. Cheers, Pingu. Come stai, caro? Un brindio alla moto. Come stai? Sei guarito? Come, come, come vanno le cose? Come, 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 cosa ci racconti di bello film? Pietro vai su Tug. Pietro vado su Tug. Non ci succare la minghia. Tiziana, la mano... Non si dice! Non si dice la... Così. Tiziana, Tiziana. Miandro, ma sei un brighella, eh? Brighella. Poretti. Brighella. Oh, mi fa piacere, Pingu, che almeno qualcuno stia bene. Qua siamo tutti dei... Dei sorci di merda. Che sguazzano nel fango di merda. Hai visto che belle cose su Instagram? Ho visto che belle cose. Ma come hai fatto tutti quei video? Dillo, dillo a Pietro. Dicelo un po', Pietro. Cosa, come fai quei video? Cosa fai? Come, come succede queste cose? Li fai tu? E come li fai? Con la macchina fotografica? Ma perché sto parlando così? Sono un coglione. Sono veramente un video di qualità eccelsa. Complimenti, Pingu. Complimenti e basta. Andate a seguirlo, per cortesia Magico Pingu, su Instagram. C'ho stato toccato. Bravo, Pingu. Bravo, Pingu. È difficile da spiegare. Va bene, Pingu. Gabri 50367, su Instagram. Bravo, Pingu. Metti anche il link, se vuoi. Tanto ci sta solo Leandro. Che non ha Instagram, tra l'altro. E bravo, Pingu. E bravo, Pingu. Maiala, la miseria. Toriganza, non ho voglia di fare un cazzo, spera. Come agiamo? Cantiamo. Leandro scrive, Alexa, ti voglio bene. Anche tanto. In Caps Lock con un cuore finale. Anche lei te ne vuole tanto. Devo scrivere un messaggio. Sto in live. Non ti rispondo per un po'. Stai attento. Ho una bruza notizia. Ho una brutta notizia da darvi. È una cosa che mi rompe il cuore. Male, proprio. Ho fatto una promessa a Kryf. Fece una promessa a Kryf. Tranquilla, puoi stare a notire quanto ti parla. Salute a Toriganza. Un salute in chat. Avevo promesso a Kryf che ci saremmo visti e che sarei stato a Luca Comics quest'anno. Ma purtroppo non mi è possibile. Non mi sarà possibile esserci. Non mi sarà possibile esserci. Purtroppo, mi dispiace da matti, ma la logistica non l'ha permesso i treni, più che altro. Niente di più. E niente di meno. E anche il fatto che si lavora. Ma a parte quello. Ma ci siamo già messi d'accordo. Arriverò a mille su Instagram, Pietro. Ma vedrai. Easy. Noi stiamo per arrivare a duemila, tra l'altro, su Instagram. Io non vorrei dire stronzate. Non vorrei dire stupidaggini, ma siamo a... Siamo a... Siamo a 1969. Quindi Instagram. Quindi? Quindi ne mancano. Leandro, se la matematica non è un'opinione, Leandro, quanti siamo? Quanti mancano? Io lo so. Quanti... Spara la Torriganza. 31. Come 31? 1900. 69. Brava Torriganza. Abbiamo una matematica qua, eh? Calcola rapido. Scomposizione dei fattori primi. Eh... Sì, lo so io. Eh, brava Torriganza. Volevo vedere se rialetta, sai? Se stavi pronta. Bene, e... Facciamo qualcosa invece di... Di non fare niente. Anche se... Landazzo... Azzo, azzo... Stasera... Mi sa che... Stasera mi sa che l'andazzo... Vi ripeto, azzo, azzo, azzo... E un poco di... Salute. Bene. Siamo pronti? Il primo impasto della serata. Vediamo quanti ne facciamo. La ganza sta scrivendo al computer, con molta violenza. Non so cosa stia scrivendo, di preciso. Adesso? Sì. Allora, prima stavo di risparmiare, che cosa stai facendo? Che ricerca stai facendo? Allora, solo con gli altri risparmi. Ok. Interessante? Stai divertendo? Sono tutti... Cioè, diciamo che sì. Però non ci stanno designer. Sono tutti architetti o... Nessuno puro designer. Sì. No, nessun graphic designer. Ok. Però in questo momento a me non importa se hai fatto una bellissima serie, capito? Capiamo molto bene, vero te, ragazzi? Davvero, ragazzi. La Tori Ganza ne sa di queste cose. Pilo, pillo, eh? Pilo, pillo, pillo. Ecco perché. Dice qualcosa? Itten, sì. Lo so perché ti dice qualcosa. Cosa ha fatto Itten? Il... 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 Ah, il triangolo di Itten. L'esagono di Itten. Mmh. Come si chiama? Cos'è? Come si chiama il... Il teore del colore. No, ma dico Itten... Io ho imparato così. Arrivo, ragazzi, vado a sciacquare la ciotola. Non mi un po' poter fare un spasso di suolo da nato. E poi... È vero. Adesso sì. È arrivata Sil. È arrivata Sil. Ciao, che Sil. Riga, riga. È proprio un co***o, eh? Eh, non si può giocare, non ha se... Non mi piace. 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 E già? Buonasera Sil. Oh, scusate, dovevo fare uno scherzetto alla Toriganda. Le ho tirato i fazzoletti. Hihihi. Che combiniamo? Continuiamo col lavoro. Siamo sempre lì, Gial, dove... Come stai, Sil? Come stai, cara? Ho visto... Lei che bacia... Che bacia... Cosa ho visto? Ci devi raccontare... Allora, no. Non ci devi raccontare... No, non ci devi raccontare niente. Cosa ci racconti, Sil? Sono un po' preoccupato per Marisa, che non la sento da... Da tre live, ormai. No, è vero. Dici? Due? Può essere? Stancaza Sil, che cosa devo raccontare? Niente. La stanchezza. Neanche una bella notizia dopo la stanchezza. Qualche... Uh, ragazzi, tra l'altro... Abbiamo fatto un acquisto io a Toriganza, vero? Sì. A parte un libro bellissimo da quello che mi racconta Toriganza, ma... Abbiamo appena ordinato, arrivare da domani, da Amazon, una maca per gatti da appendere alla finestra. Visto l'interesse per Giulia per le finestre, che guarda sempre fuori, penso che abbiamo fatto un buon acquisto a Toriganza. Tu che dici? Sì. Sì. Che meraviglia, eh. Ehi. Il mondo... Non ho capito. L'acquisto del secolo, assolutamente. Ma Sil... Tu la segui Shamila, vero? Su Instagram. Hai visto che gattini che ha trovato? Ha trovato... Due, due... Due angeli del paradiso. Madonna, santa. Hai visto che bellezza? Io non so... Sono una roba incredibile. Una culla... No, una culla. Si chiama... Come si chiama? Vabbè. Siamo molto emozionati, comunque, per questo acquisto. Non vediamo l'ora di apporla alla finestra, vero Toriganza? Possiamo raccontare, svelare un segreto della nostra coppia? Della tradizione che svolgiamo ogni martedì sera? È buono. Stiamo invecchiando, Sil. Tu che dici tanto, che... Quanti anni hai, le cose. Io e la Toriganza siamo peggio di te. Pensavo che avevi comprato l'Eno, ma... Il martedì sera, io e la Toriganza, sapete cosa facciamo? Ci mettiamo qua, apriamo Rai Play, ci guardiamo il collegio, perché siamo vecchi. Dopodiché... Dopodiché cosa facciamo? Ci stecchiamo 97 gin tonic e poi andiamo a dormire. Ah no, anche... Che cosa è peggio. Ci guardiamo anche... Come si chiama? Little Big Italy. Little Big Italy. Mai visto. Vedi. Little Big Italy, sì, però... Non lo so. Ci piace il collegio e ci piace Little Big Italy. È una tradizione che abbiamo. Non ce ne vergogniamo. Mi state anche rinconiendo. Ha parlato quello... Leandro! Io non lo so. Io non lo so. Il giudizio è una cosa importante. Stai giudicando? Stai giudicando me a Toriganza? Rosanick? Vi manca solo ballando con le tele? Ecco, Rosanick. Porca miseria. Perculato da mia... Perculato da mia mamma. Dio mono. E ci sta, ci sta. Accetto. E vado avanti. Però... Questa è una verità. Rosanick mi ha ammazzato. Certo che vi giudico come la faccio per il tuo bene. Leandro, se non vuoi che ricominci a parlare dei Queen e di Vasco Rossi, è meglio che tu stia ben attento. Qual giovane sei tu? Io, Sil, a Toriganza, ormai abbiamo passato i 25. Anche i 26. Anche i 27. Qua c'è dell'esperienza. Stai preparando la tisanina. Brava, Sil. Brava, Sil. Un bel gin tonic e passa tutto. Perché a una certa età la tisanina è il nome in codice per il gin tonic. Vero, Sil? Quanti segreti che si imparano, vero? Andando avanti con l'età. A Milano ci vediamo, sì? Quando è che ci vai a Milano, Leandro? No. Brava, sì, così mi piace. 9, 10, 11 novembre sto. Come no? 9, 10, 11 novembre. Come faccio a venire a Milano il 9, 10, 11 novembre, Leandro? Ho visto un like, un bacio a lui, un bacio a lui, un bacio a lui, un bacio a lui. Dov'è il fottuto calendario in questo Windows di merda? Mi sbazzo, se no. Eh, ma mi vengono fuori le notizie. Che giorni sono, Leandro? 9, 10, 11. Oh, Giulia, buonasera. Come stai? Come stai? Come stai? Sil? Un altro? Me lo saluti, sai? Me lo saluti da... Giulietta. Ha sniffato un po' di gesso, Giulia, prima. Vero? Batti 5. Mi ha battuto 5. Eh, Giulietta. Quanto di bella. Quando sarà, secondo te, il tempo a tu di ganza? Giovedì, venerdì e sabato. Niente. Di raccontare ai miei cari amici follower di cosa accadrà. Quando sarà il momento? Ci sono delle rivelazioni, ragazzi. Secondo te, a tu di ganza? Non lo so. Ragiona un po' da social media manager. Spara una data. Non lo so. Ci sono delle rivelazioni che vi devo fare, ragazzi. Sono successe delle cose importanti. Veramente, eh? Non è per fare il Mona. Arriverà il momento giusto di dirvelo. Arriverà il momento. Dovremo decidere, dovrò decidere, insieme alla mia social media manager, quando fare quest'annuncio. Vero? Domanda off-topic. La ganza che ne pensa del nuovo album di Calcutta? Ma no, un titolino. Ma lei che cazzo gliene frega di Calcutta? No! No, sto scherzando. Mi piangono, c'è Calcutta. Mi piangono, c'è Calcutta. No, è... Non ti dobbiamo dire niente. Non è inerente alla coppia, alla novità. È inerente alle cose. Non ti daremo un nipotino. Almeno quest'anno non ti lo daremo un nipotino. Vero, Tori Ganza? Più in là. Neanche ci sposeremo quest'anno. È una cosa... Una cosa. No, Sil voleva diventare zia pure lei. Voglio news anche sul canale. Facciamo così. Facciamo così. Non è una cosa... È una cosa... Che ha richiesto sforzo, ha richiesto riflessioni, sta ancora causando dei pensieri forti. Questa decisione è stata presa. Sono contento di averla presa. Ma... Ve la dirò. Ve la dirò. Non vi preoccupate. State... State... State tranquilli che... Ve la dirò. Non è il caso. E... Una cosa che posso dirvi è che... Diciamo che gioverà al contenuto e alla presenza in live. Diciamo così. Non mi sono cagato nel pantalone le andro. Guarda c'è. Eeeh! Io non ho visto niente, Sil. ma ce l'ho finta di niente. Guarda questo bello com'è venuto. Guarda. Guarda questo. naso com'è venuto stortignacolo. Guarda qua. ma guarda che caso. Due narici completamente scoppiate. Coincidenze? Non credo. le andro insistente. Guarda sul telegram cosa mi scrive. Mi minaccia. Twitch. Aiuto. Leandro mi minaccia. No. Non è assolutamente vero. Leandro, tempo al tempo. Tomp al tomp come dicono in francesi. Dicono così, Leandro? La preganza, Sil. È vero? Signora, c'è un uomo per lei. Ho visto un uomo per lei. Eh, che faccia a lui. Leandro, io devo rispettare i miei tempi. Devo, devo, sono cose che vanno, che vanno. ragionate, sono anche cose personali. Non so se è la vita. C'è bisogno di organizzazione. C'è bisogno di organizzazione. o di che. Bisogna rispettare i tempi e le cose delle persone. Con la pace che trovi nel tuo coricino. Vedrai, è una bella notizia. Una bella notizia. Neandro. Non ti preoccupare. Stai tranquillo. E' una bella news. Ma Appunto Troverò il momento giusto per dirvelo. Ecco. Non è per fare il... Poi il... Non è per creare hype facile. Ma davvero. Non ti preoccupare. Tu sei cantivo. Hai fatto piacere. Tu sei cattivo. Lo so, Sil. Lo so, Sil. Lo so, ma... Vedrai. Ne varrà la pena. Very good. Ci siamo quasi. Datemi... Dopo questa schiaffeggiata Datemi un... Datemi un attimo. Vado a sciacquare. Come al mio solito. plemento... Non è per cui la mia conteria. No... Fini un attimo. Non è per cui la mia conteria è da anchepra. No è per cui la mia conteria. Conteria un attimo. Non è per cui la mia conteria è da anche frazz bocana e di piùусcara e della vita. Eccoci Sono ancora io Pietro Guarda pure offeso Neandro Bisogna rispettare Gli spazi personali Potevo evitare di dirvelo? Certo Potevo evitare di dirvelo Ma tu riguarda che dici? Qualcuno vuole delle carezze Potevo evitarmi di Potevo evitare Evitarmi Ma ci sta anche quello Un po' di sofferenza Ci sta Tra l'altro Guardate la news A proposito dei gatti Guardate che slaceramento Che mi ha fatto la Giulia Mi ha aperto un Non si dice Leandro Puoi dire quello che vuoi Questa è la vita Non si può Non si può Scomoda? Prendite la liberata E' peggio La tua Sì peggio Sì Uff E' strana la vita Sil Tu quanti lavori hai fatto Nella tua vita? Hai sempre lavorato lì? O hai cambiato Vari Vari Pieghi Una curiosità Se ci vuoi dire Allora che si vuole La raffare Vi dico solo Che ci saranno Delle variazioni Ci saranno Ci sono In previsione Dei cambiamenti Delle cose Vi dico solo questo Ci sarà un momento Migliore per dirvelo Semplicemente E questo è Leandro Non posso fare come Come le Siamo in un mondo Fatto di hype Di cose Di stronzate Poi Cioè Potevo fare a meno Di dirvelo Ma Posso cambiare Se non voglio parlarne Posso cambiare Argomento Se non voglio parlarne Ma Mi sembra anche giusto Avere dei tempi Pensare sulle cose Riflettere Fare Brigare E visto che ancora Devo immagazzinare Tante cose E' una cosa importante Lasciamo Eh Smettiamo di parlarne Leandro Tu che lavoro Andrai a fare Dopo che finirei la scuola Andrai a vendere Le caldarroste Come Con me Vieni a vendere Le caldarroste Perché lei Lo hai cacciato fuori L'argomento Se non volevi creare niente Non è che non volevo Creare niente Volevo solo Farvi stare tranquilli Mettervi un po' di pepe nel culo Giulia Non si può Ah il gigolo Giustamente Tu hai una dotazione Di serie Incredibile Beh Leandro Non lo so Giulia che Giulia cosa c'è Vieni qua Basta Neandro Questa è la vita Soffrirete per Come io sto soffrendo Da tre mesi Da più di tre mesi Da una vita Per l'uscita di Di un due Ecco Ti immagini Che due palle Due palline Piccoline Piccoline Immagino Beh però Non lo so Ci sono abbastanza Gigolo in Italia Non so Vabbè Ne lasciamo stare Cosa insieme No Semplicemente Che No Niente Sennò che due palle Niente E altro C'è Vitis Ah tra l'altro Mi sono abbastanza innamorato Di una serie Che stiamo vedendo Adesso Io la Torriganza Come si chiama? Chapel White Chapel White La trovate su Disney Plus Una serie che fa molta paura Moltissima Almeno Io sono un fifone maledetto A livello Film Di film Parla di vampiri Parla di cose Però mi piace Io ho adorato Ted Lasso Ma non fa paura Ted Lasso Che è Ted Lasso? Aspettate eh Ted Lasso È una roba da ridere Tipo Vediamo Wikipedia Giulia Ted Lasso Coach di football Americano Viene Inaspettatamente Assunto Da Rebecca Non sapendo nulla Di calcio Ted decide Di ascitare Incaigo Mi sta mangiando La scatola Mi sa che ha fame Sai Giulia? Un attimino Aspetta Ti vuole fermezza Giulia Ce la consigli Sì Non l'ho vista Ma dicono Sia divertente Una serie sul calcio Non parla di calcio Molto bene Noi non abbiamo Pregiudizie A Toriganda A Toriganda Sul calcio Sì Non so Puoi sparare Anche due Due mortaretti A Toriganda Vogliamo Non lo so Metterci Non lo so Apriamo due Salsicce Le mettiamo Su Sui carboni Ardenti Sono triste Da quando È finita Beh Questa è una È bene Perché vuol dire Che hai visto Una bella serie È anche È anche una tristetta Però Vuol dire che è stata Una bella serie Leandro Cosa mi dici Del calcio Scommesse Delle cose Cosa diciamo Dei fatti di cronaca Di qualche giorno fa Posso Posso svelarvi una cosa Una delle mie Più grandi Paure Ed è una Delle Motivazioni Poi È infondata Forse perché Appunto Non lo so Vabbè Lasciamo stare Però Una delle cose Che mi fa più Paura al mondo È proprio La dipendenza Da 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 Gioco d'azzardo Non nel senso Da parte mia Perché io Non subisco Il fascino Di Di scommesse Cose del genere Assolutamente Ma Vabbè È una È una cosa Che c'ho nella testa Ma In un mondo Cioè Se vedo mio figlio No Giovane Che Ai giovani Piace il calcio Le cose Non so Mi fa una paura Il gioco d'azzardo Da morire Mi fa Mi fa proprio paura Per pubblicizzare Sta serie Hanno messo La squadra Con i giocatori Su Su FIFA Va È uno schifo Ma secondo me Ci sta Marciando Anche un po' Corona Io Mi riferivo Neanche a Corona Ma solo sul Fatto Come su una Orca miseria Ho mancato Il bracciolo Non parlavo Non parlavo neanche di Corona Ma proprio Del tipo Lì come si chiama Fagiolo Fagiolo Poi appunto A me spaventa A me spaventa da macco Il gioco d'azzardo E Della Pill Che ha su Che ha sui giovani Mi fa Mi fa Mi fa Mi fa Mi fa Mi fa proprio Tanta paura E Ovviamente È una questione culturale No? Avere una Cioè Il gioco d'azzardo Colpisce Indistintamente Però Persone Che 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 lo accolgono Nelle loro vite No? Nel senso Che non hanno strumenti Per Per fare fronte A questo Mi spaventa Il Il Malfunzionamento Delle Delle cose Cioè Il gioco d'azzardo Rovina Rovina Tutto È È una Disgrazia Incredibile Mi fa una paura Cioè Mi fa Più paura Dei vampiri Guardo Anche perché Sì sì Ho presente Che Corona Ha fatto uscire La faccenda Per ogni volta Che Per voi Per un Per uno scupo Per un altro Si parla di 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 gioco d'azzardo Scupo Cazzo ne so C'è 139 miliardi Se non erro Sono i soldi Degli italiani Spesi In gioco d'azzardo Legale In un anno E sono La spesa Sono Sono i costi Della sanità pubblica Poco ci manca Se non erro Capite che numeri Spaventosi Sono Cioè vuol dire Che Le nuove Generazioni Magari Subiscono Il fascino Di chi è appassionato Al calcio Delle scommesse Cazzo Cazzo ne so Però c'è proprio Un substrato Importante Di queste cose qua A me spaventa Da matti C'è La probabilità Che mio figlio Poi ovviamente Sta a me Dargli gli strumenti Io sto parlando Di un futuribile figlio Perché Quando vedo Il gioco d'azzardo E E soprattutto Con questa notizia Che Appunto questo calciatore Quanti anni aveva Poco più di 20 anni Sta al genitore Dargli gli strumenti Al figlio Di 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 evitare Queste cose Di Non Interessarsi E Dell'insensatezza Del gioco d'azzardo Vabbè Perché Più insensato Del gioco d'azzardo Non penso L'arricchimento Fa Cioè Oltre al Che poi Già che si chiami Gioco d'azzardo Già che si chiami Gioco La parola Gioco L'è sbagliata No O il gioco Appunto Il gioco Dell'otto Il gioco E' E' sbagliato Chiamarlo gioco No A parte Questo Non so Ci sono Delle persone Stupide Vabbè Nel senso Vabbè Lasciamo stare Ci sono le persone Che hanno paura Che il figlio Si faccia le canne E poi Non lo so Se giocano Le schedine Non fa niente Ovviamente Cioè Ma Che discorsi sto facendo Non ha senso Meglio Meglio che io Stia zitto Però Appunto Tranquillo Autoricand Non so Perché Ma Appunto Non so Ha una paura Proprio Incommensurabile A te fa paura Il gioco D'azzardo Toriganza Si Si Quanto Da 6 A 7 7 Cosa ne pensi Del gioco D'azzardo Toriganza Brava Toriganza Allora Facciamo Quest'ultimo Impastino Dopo Di Cainz Vado in bagno Cosa hai trovato Leandro? 1 L'hai dato da mangiare Abbiamo quasi finito Abbiamo quasi finito il A proposito A proposito di merda Cosa hai trovato Leandro? No Non di Scusami Leandro Ho sbagliato Basta No di Cosa hai trovato Un 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 One Un 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 Io direi di continuare con la tecnica della ditata sul naso, perché ne abbiamo bisogno di cose più complete. Ok. Perfetto. Perfetto. Ok. 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 Griff, eccolo lì. Buonasera Griff. Dammi un secondo, vado a sciacquare, fare una pisciatina e poi torno subito da voi. Andatevi pochi secondi. Arrivo. Che stai arrivando, che stai arrivando, portaci tante buone notizie, portaci tante buone cose. Non darci problemi, non darci più problemi. Anno 2020 che stai arrivando, nuova generazione. 3.000, nuova generazione. 3.000, anno 2020. Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Mi dispiace . Mi dispiace… Mi dispiace . Perchè, capisci? Siamo verso gli anni 3000, nella generazione nuova, anno 2020, anno 2020, eccomi, 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 eccomi. Buonasera, Kripp. Kripp, come stai? Se ti posso chiedere una cosa? Non chiedermi nulla della questione Colà, perché aspetto un attimo prima di cosare. Non lo so. Come stai? Come va, Kripp? Sei pronto? Ne abbiamo parlato prima, tra l'altro, di Luca. Di quanto mi dispiace non riuscire. Ne abbiamo parlato giusto prima. Ne abbiamo parlato giusto prima. Però appunto, con una prospettiva più rosea, sono anzi quasi contento di aspettare un po' per... Ah, scusate, che mona di merda. Sei già stanco prima di... Appunto, è un periodo un po' di merda. Poi, parlo per me, immagino per te, Kripp. In ogni caso, mi spiace da matti. Mi spiace da matti, ma appunto, con la consapevolezza che ci rifaremo in maniera molto più sostanziosa. Cosa mi hai mandato, Leandro? Messire la corte? Cos'è? È messire... Cioè, cos'è? Messire la corte? Non sto capendo. E più che altro quei treni di merda, io non lo so. Pazzesca squadra del mio paese. Dobbiamo cambiare squadra tutti di appartenenza? Cripp, prima di tutto, prima delle cose sentimentali, come sta andando il corso? Dici un po', abbiamo visto, io l'ho visto. Poi, gli altri spero anche... Cripp su Instagram pubblica le sue cose, ovviamente. Ho visto l'ultima questione, che è anche l'immagine profilo. La visione di te stesso così stupenda. Stupenda. Come sta andando... Come sta andando il corso? Come sta andando la questione? Dici un po'. Dottori Ganda, saluta Grif. Hello! Internazionale. Oltre a come va il corso, come stanno i gatti, salutameli tanto, la compagna, anche. Oddio, che bello sbappare un tot, che bella la nicotina tua. Stai mangiando le corso. Stai mangiando le corso. Perché? Ho sentito sgranocchiare di carote. No, la pastiera. Ah, ok. Ho preso uno spavento. Ma che risotto ti ho fatto stasera, Stai Ganda? Cioè, noi ridiamo e scherziamo, ma... Ti ho fatto un buon risotto stasera? All'onda. All'onda. Un risotto spaziale. Mi sto schillando particolarmente nel risotto Sapete? Mi vengono dei buoni risotti Sto diventando un risottista Un risottista Dà anche tante soddisfazioni il risotto Secondo me Tu che dici in atto di canza? Io l'adoro in atto Tu l'adori ma Sai le tecniche che ci stanno dietro? Sai il trattamento del chicco come avviene? Sai la mantecatura? Il movimento? Quanti risotti hai portato domenica? Ecco a Toriganza È solo un piccolo disegno Che sia piccolo, grande, medio Ok A me è piaciuto da matti Mi piace questo griff Mi piace questo griff Non ti preoccupare, griff Mi dispiace Con il corso come va, griff? Tutto bene? Ragazzi, i mazzi? Comunque Non mi piace molto Mi è piaciuto moltissimo Quest'ultimo Quest'ultimo Ma In generale Gli ultimi Gli ultimi lavori Vedo un griff Le cose serie arriveranno Non vedo l'ora griff Perché già da Appunto Le ultime pubblicazioni Griff Mi stanno piacendo da matti E Non vedo l'ora Non vedo l'ora Di vedere Vado C'ho delle song tristi Che mi aspettano Vai a farti le seghe Leandro Adesso Farsi le seghe Si dice Andare ad ascoltare Le canzoni tristi No Leandro Vai Intristiciti Spero che tornerai Per un saluto Fai attento Leandro Un kiss Sul Sullo zigomo destro Criticami un po' Ti critico Aspetta Aspettami eh Griff Che devo entrare su Instagram Da questo profilo Quindi devo andare YouTube Il mio canale Aspetta eh Aspetta eh Aspetta eh Aspetta che griff Facciamo una Come si chiama Cerca No Andare qui Eccoci Posso mostrare Posso mostrare Griff La 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 cosa in questione Certo Benissimo Vado Eccoci Questo E' il lavoro In questione E' il lavoro in questione Allora a parte In generale Che Che Allora Così di primo acchito Si vede che Che ti sei rinnamorato Di 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 E C'è una Una grande inflessione Da parte sua Sul Sul tuo disegno E Tanti si innamorano Tanti Tanti Prendono spunto Ma Per Per fare una cosa Propria Che Che appunto Si è ispirata Da qualcun altro Comunque Ci vuole Ci vuole Del Nel senso A copiare GP sono bravi Tutti No Questo E Tecnicamente GP Ma sei tu No E questo E questo Mi piace tanto Poi Così Se devo proprio Cercare il pelo Nel Nell'uovo Cosa Devo Cosa devo dire Forse Ecco Per Visto che È un autoritratto E Secondo me E Visto che Non lo so Ho visto Qualche tua foto Non penso che tu sia Largo come Come Mi nonna Avrei Stretto Cioè nel senso Qua c'è il busto No? E dovrebbe Continuare Bene o male Così Visto che E quindi qua O Che c'hai un orchite Però È Una stupidaggine Una stupidaggine Perché E soprattutto Per farsi Quattro Per farsi Quattro risate Ma A me piace Da matti A me piace Da matti Poi Come Non ho Non ho like Su questo Noi l'abbiamo visto Da un po' Ma io di questo Sono follemente Innamorato Cripp Questa Questa cosa Che hai fatto È Meravigliosa Questa cosa Che hai fatto È meravigliosa E poi qua Poi devo ancora Conoscerti appunto Dal vivo Devo ancora aspettare Qualche mese Poco Poco Il meno possibile Ma Secondo me Ti sei Sei tu Sei tu E Io Non so Cioè allora Rendere Un Non voglio fare Il Il Lecca Lecca Scrotolis Ma È l'idea Che traspare No Dalle Dalle Illustrazioni Dalle cose Ti devo ancora Conoscere Veramente Ma Secondo me Sei Sei tutto qua Sei tutto qua Sei tutto qua Hai fatto Un bellissimo Lavoro Poi L'acquarello Lasciamo stare Stupendo Molto Giposo Come Trattamento Del Del colore Non Non ma Ed è una Bella Cosa Vi volevo Larghi E comunque Ho preso 15 chili Vabbè In ogni caso 15 chili Di orchide Cripp Questo Cosa ti ha Combinato La gatta Non me lo Regalare Cripp Tu sei Passo No 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 In ogni caso In ogni caso E Oltre Oltretutto Cripp Mi dici Cosa hai Comprato Cioè Hai preso L'edizione Più figa Del mondo Dei Cccp Nell'ultima Questione Io Non ho seguito Bene A Tori Ganza In pratica Cos'è Questo È Il Quarantesimo Anniversario Hanno scritto Un libro Hanno scritto Un libro E faranno Gli spettacoli Beh Ho visto Cripp Che hai messo Una storia Hai messo Una storia Ed è Un Ed è un Pezzo Di una live Che Che stanno Facendo Che stanno Portando Noi Cripp È tre Sere Che andiamo Avanti Così È tre Sere Che Che Produciamo Facendo Scatole Su scatole No Però dobbiamo Produrre Per poi poter Fare qualcosa Bella questa Bella questa Guarda come uscita Beccati questa Beccati questa Potremmo Potremmo provare A contarle Già Adesso Possiamo provare A fare un conto Alla cieca Alla Carlona Più di 60 Più di 60 Più di 60 Giulia Buonasera Come stai? Saluta Crif Edizione per il Quarantesimo Tu hai preso Quella super Figa Col libro E Quegli Quegli aggeggi Appresso Mi hai mandato Il link Su Instagram Tra l'altro E che Già sono Mi sto Impoverendo Come Come Non posso Shoppare Come Maiale Ci sono Delle spillette Anche qua Però le spillette Amo Guarda Crif Cosa mi ha Mandato C'è l'edizione Con le spillette Vedi Ci sono le spillette C'è il libro Ci sono le cose Costa solo 100 euro Se poco poco Siamo 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 Dei compagni Dobbiamo Prenderle No? Non lo so Non lo so Le spillette Io lo prendo Io spenderei 100 euro Solo per le spillette Ovviamente No È più Una questione Ideologica Eccetera Però Le spill Mi fanno Cioè Me li fanno spendere Con più facilità I 100 euro Ecco Guarda Giulia Che curiosa Crif Crif Ti è entrato In cipi Nell'occhio Ehm Sono Sono le cose Che penso Sono le cose Che penso Le spillette Le spillette Ti hanno fregate Le spillette Ti hanno fregato Ehm Lo fanno Le spillette Lo fanno Poi Tra l'altro Crif Te ci pensi Adesso Non andiamo più A le superire Adesso vai al corso Le cose E va bene Ma Hai il coraggio Di metterti Sullo zainetto Sull'ispack Crif Le spillette Dei cici ccp Ehm O ti senti Trove Quando le userai Le scarterai mai È più una cosa collezionistica Oppure Dici Vabbè Prendo ste spillette Dove le metto Poi Cioè Se Poi Quando Entra la parte Più razionale E dici Dove cazzo Le infilo Dove cazzo Me le metto Sul cappellino Non lo so Ma poi Mi picchiano Cioè Ci sta comunque La meloni No E se mi picchiano Cici cipi S S S Punk in Beirut Punk in Smirna Non lo so Ancora Dove ho messo La ciotola Giulia Giulia Cicca la ciotola Blu Quella blu L'hai vista? Ha fatto Sink Sink I gradi militari Sua giacca Sarebbe Sarebbe Dove cazzo Ho messo Scusate Onore al merito No Onore al merito Dei cici cipi Sarebbe Uno Due Due Tre Quattro Cinque Sette 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 Basta Io direi che stasera Finiamo il gesso Direi che stasera Possiamo sfinire il gesso Manca ancora Una buttata Quindi Direi che Finiamo il gesso E poi Via Cioè questa Poi un'altra E poi Ti Questo lo farei un po' più liquido Perché Mi sa che Questo lo facciamo un po' più precisino Questo lo facciamo un po' più precisino Dai Ehm Domani dovrà arrivare Perfetto Sono curioso Poi Sicuro mi convincerai A Mi convincerai Quando mi mostrerai le foto Ne sentirò Un estremo bisogno anch'io Molto probabilmente Stai attento Non farle troppo bene le foto Che suono erotico Questo eh Leandro Leandro Arrivo eh Porca madonna Nina Arrivò Finito l'acqua Brutta cosa Correre come i maledetti Arrivò 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 Arrivo arrivo Arrivò Chiamina Chiamina mi ha attaccato una malattia Dei godetto Dei godetto Di cosa che arrivo Vado a sciacquare la La Ti fa Linarlo Dio Chiamina mi ha attaccato una malattia Grazie a tutti Scusate Scusate E' stata dura Ma ce l'ho fatta Ehm Ho imparato a rilegare Ora mi faccio gli sketchbook da solo Pensa te Ti compri fogliazzi E ti fai Ehm Ed è Sai che io Mmm Non so Sarà che sono Statico Ehm Ehm No ma lasciamo stare Mmm Ma Mi piace di più il foglio Libero Mi piace più il foglio libero Così Ti vengono fuori dei librozzi Da venti pagine Che sono spessi Quattro centimetri Figo Molto figo Io L'esperienza mia E' 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 Questa Ho comprato un sacco di sketchbook Ma alla fine ho strappato tutte le pagine E me le sono tenuti come fogli volanti Perché Mi sta stretto questa cosa Questa idea di Rilemoni No Ehm Non so Cosa c'ho contro Non so Non so cosa c'ho Contro 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 i libri però Contro Ma non mi Non mi Non mi Non mi Scende dal gargarozzo Crif Che fa Amplenair Tra l'altro Si è chiusa in camera Giulia? No? Ehm Come sta andando col corso Con le cose Forse prima Avevi problemi di condizione Come sta andando Con 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 il corso Crif Io Disegnare in giro Tra l'altro A Toriganza Sapete che ho incontrato Stamattina Ho bevuto un caffè al bar Dopo essere stato Dalla psicologa E ho incontrato Un mio Il mio vecchio insegnante Di storia della musica Del liceo musicale Fratello Della mia insegnante Di storia dell'arte Del liceo artistico Il professor Passerelli Un Mitico Mi ho fetto il caffè Dai Che bello Ogni tanto il caso Vedi Non ho incontrato nessuno Come non hai incontrato nessuno? Ho incontrato Riccardino Riccardino Il mio amico Riccardino Sono così contento Che hai Che Dici il mio amico Riccardino Lo sai Che ti è arrivato In giro Perché Trovo che è impossibile Che ci Che ci siamo conosci Così poco del papà Così poco del papà E siete già così Spettaguless Beh Beh è una bella cosa Degli spettaguless Ma poi non volevo minimizzare Degli spettaguless Ma Stando a me lì Illustrazione Ho concluso E ora è iniziato una settimana Il corso di fumetto Attenzione Attenzione Poi entra la narrazione Delle cose A casa ti sei portato Delle belle Delle belle Boh Ma poi ne parleremo Più Nello Più Profondamente Però Che bello Ora è una Questione di lavorare Su quello che ho Appreso Bisogna fare i conti Con la realtà Con 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 Ma poi Criff Appunto We believe In Criff Always E poi Cazzo Che roba Che mi tiri fuori Il Criffon Il Criffon Niamo esce fuori da qua mi è arrivata è arrivata la Julie allora è arrivato il tempo 4 kg non 5 abbiamo fatto 4 kg di gesso ragazzi l'ultima 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 roba l'ultima faccenda è un po' poca penso che non riusciremo a farle tutte mi sa proprio di no ce n'è pochissima ce n'è pochissimo facciamo questo come questo come questo che è ancora zozzo vedete e facciamo questa andatemi un attimo vado a scioccare la sotto come usanza grazie a tutti l'abbiamo scampata l'abbiamo scampata la mamma che un brigo che mi ha adesso sono 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 quelle per per i volti di inciampo speriamo bene poi magari non so vedremo faremo anche una live di composizione di delle maschere no cercare di di fare dei pattern che ci piacciono no l'attori canza stai ancora studiando l'attori canza pazza figurati se non dovevi giocare col sacco di gesso vero gile come sta la gatta griff salutamela e la compagna 4 kg di gesso 4 kg di gesso devo andare a ricomprarlo tra l'altro tra l'altro Giulia Giulia questo mi è il mi è e la hai visto i gatti di Shamila visto che che la conosci eccetera che la segui eccetera hai visto che belli che sono i gatti nuovi di Shamila madonna sono tenerissimi vero Giulia sono dei colleghi eh tra l'altro tu non lo sai ma hai un sacco di hai un sacco di amici virtuali Giulia Giulia perché devi romper la manetta tra l'altro Cliff vedi questa questa apertura vedi questo sbrego qua prima stavamo giocando io e Giulia perché devi fare casino come fai a dire di no quando si diverte anche se ti rompe le cose più preziose che hai la mia scatola di cartoni mi diverte come una matta l'ha fatto una dipendenza Giulia non le taglio le unghie da troppo tempo ce le ha affilatissime e lunghissime e lunghissime devo devo approfittare quando dormirà la prossima quando la becca addormentata la prossima volta me le ritaglia perché è pericolosa mi ha mi ha mi ha guantato non so se hai anche i tuoi gatti Cliff ma a Giulia piacciono tanto le fascette da elettricista quelle le fascette da elettricista praticamente ho una prova anche con i tuoi però è proprio innamorata gli le tiri poi è una gatta del riporto Cliff la Giulia però è innamorata delle fascette ne avrò buttate via una cinquantina che dici Toriganza? è un incubo tagliarle io approfitto quando quando dorme però sì appena capisce che gliele stai tagliando è un casino con gli elastici anche con gli elastici perché ogni tanto li ruba la Toriganza ma più che con gli elastici con i reggisenni di Toriganza apre il cassetto se li prende li smozica tutti infatti visto che mi dispiace che la Toriganza vada in giro così con i reggisenni tutti mangiati ho rifatto il guardaroba della povera Toriganza 700.000 volte perché la Giulia se li ruba dal cassetto e appunto ste fascette benedette quanti anni ha la tua gatta Kriff un po' d'acqua cheers Kriff alla vostra gli armadi bastarda little bastard 6 anni beh è giovane ancora è ancora giovincella però Kriff è inutile siamo siamo dei poveri stupidi non so se hai sentito prima ma ho comprato un visto che mi dispiace la Giulia non esce mai no guarda sempre fuori dalla finestra eccetera domani dovrebbe arrivarci via Amazon la maca da appendere con le ventose ai vetri della della finestra per i gatti se penso che penso che la faremo contenta vero Toriganza la Giulietta con questo con questo gift e che d'altronde ma ma questa qua è buonissima com'è è possibile tra l'altro io la Toriganza ieri sera abbiamo cenato con del ramen di una famosa rameneria qui di Udine eravamo stati a mangiare in loco qualche anno fa ormai un anno fa solo mi sembra di più in ogni caso un anno fa siamo andati a mangiarlo in loco ieri sera abbiamo tentato il il delivery a parte che ci ha fatto male ma non era per niente buono non era per niente buono speriamo 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 che la usi cosa? gli aggiornamenti? la triganza? geforce experience è importante aggiornare la scheda grafica e anche windows ma sei su photoshop e su photoshop no? si e allora non fallo quando lo chiudi stasera o si da me c'è una ragazza giapponese che è un locale dove fanno ramen eccezionale qua manca Chris qua manca nel senso che un ramen vero un sushi con i controcassi un della cucina asiatica o giapponese o che si rispetti qua a Udine non c'è non c'è un sushi premium capito? ci sono quasi solo simili anche a livello di sushi solo catene qualcuno buono c'è ma non capito che dici ho provato il sushi il vero sushi no vedi quindi ci poste a sedere bisogna prenotare almeno 3-4 giorni meno vedi ma non so Chris se tu segui Alex su youtube che ha fatto una serie gigante sul ramen se per caso ti interessa ti butto il link aspetta nel canale di di Alex andiamo aspetta ma penso che tu lo conosca la maggioranza di lui con dette però uno serio no almeno uno che faccia no che importi che importi il wasabi che che importi il cazzo bushi che importi cazzo ne so le cose vere le cose serie no il vero umami giapponese no provarlo devo davvero andare non lo so dove devo andare per mangiare un un buon ramen un sushi decente non lo so è possibile scusate è un canale stupendo quello di di Alex un approccio un approccio alla cucina a parte lascia stare che è francese però appunto a Milano 300 euro a capoce penso che quando verrò a Milano per un tot di giorni cioè se mai verrò a Milano per più di due giorni penso che la mia attrattiva principale sarà quella di provare ristoranti ristoranti che qua non posso trovare perché alla fine il bello anche di Milano è che trovi una concentrazione di di culture e anche a Milano è mangiato romano shit non si fa si hai mangiato bene molto cosa hai preso una matriciana pensa te non si andate a mangiare il romano si perché avevano qualche di orario si 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 non vedo l'ora criffet ma senti criff quando succederà cosa facciamo dici che mi conviene prendere un una camera una roba a Milano oppure non lo so cosa ci sentiremo vedremo dove dovrà criff e un'altra cosa criff secondo me a Toriganza visto che bene o male a livello di cose però è più nerd di me a livello delle cose che ci piacciono niente niente tu sei più approfondita sul niente lascio facciamo stare lasciamo stare ho paura di 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 approfittarmi criff in ogni caso vediamo a chi possiamo fare un bel ride in questa sera a chi fare un bel ride in questa sera c'è vile c'è amarantis c'è captain ghost che sta giocando c'è stefano 117 che sta giocando c'è green soul c'è dart pacio c'è radio canaglia radio canaglia sarebbe da ridare doomfruid ok c'è anthony wheeler c'è dank 83 chi è dank 83 pentotark c'è pentotark c'è pachydrose alarico uh alarico 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 inchiostronauti libro game stridoneria rusticana alla conquista del cass 144 beh inchiostronauti si potrebbe raidare quanto dura la live di inchiostronauti stanno finendo non vorrei arrivare no sono in live da 1 ora e 40 dureranno fino a mezzanotte almeno dai dureranno almeno fino a mezzanotte mio studio veramente amarantis mannaggia stavamo guardando chi cazzo raidare stasera buonasera amarantis grazie mille di raid cosa tra cazzo stavate facendo amarantis cosa stavate facendo amarantis di interessante mi hai battuto mi hai fregato amarantis dobbiamo devo dobbiamo è troppo inflazionata quest'ora devo dobbiamo cambiare orari dobbiamo cambiare orari siamo troppo troppo concomitanti cosa sto dicendo fra sei dei sei dei nostri stasera grazie mille dello shout out fra andiamo a seguire tutti amarantis se non lo se non l'abbiamo se non l'abbiamo fatto prima ho l'occasione amarantis per spiegarti ti abbiamo raidato forse due live una live fa non la scorsa quella prima e stavo ed era forse la prima la seconda volta che che facevamo ste robe qua ti amo lo stiamo facendo live adesso stavamo finito stavamo concludendo ma stiamo appunto facendo le molteplici copie delle cose sto sbiascicando non so ho bevuto dell'acqua mi fa male mi fa male ingiusto sono mezzo ciucco come va mi fa molto piacere saperlo fra e spero che la tua serata si si stia andando bene e il fatto che tu sia mezzo ciucco mi riempie il cuore di gioia l'acqua fa ruggi infatti già iniziò a scricchiolare ed è per questo che stavo a vorrei dare qualcuno ma 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 in ogni caso Amarantis ti 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 faccio vedere le cose che stiamo facendo no queste saranno le copie che andremo a presentare no andremo a ad affiggere alle pareti delle cities questa è la fase di produzione abbiamo appena ha finito quattro chili di gesso e io mi ritengo abbastanza soddisfatto da da come sta come sta avvenendo le cose non mi hai detto cosa stavi facendo live stavi finendo quella faccenda che avevi fatto con gli acrilici quando ancora quando ti raidai mi fa molto piacere che ti piacciono Amarantis grazie mille poi a me piace un sacco il fatto di non colare precisamente sempre tutto di lasciare delle mancanze di non essere preciso di lasciare delle bolle in modo tale che la risultanza della duplicazione sia sempre un volto diverso anche se derivante da sempre le stesse sei matrici no odd con matite colorate una creatura della serie del doctor u e cosa sarà mai questo odd scusate posso fare il naso cos'è un odd una creatura della serie del doctor mi coglie totalmente impreparato Amarantis uno schifuso ma buonasera Wolfi un Wolfi genovese ormai eh buonasera Wolfi tutto bene tu abbiamo finito abbiamo finito il gesso Giulia non lo guardare neanche questo Amarantis mi conosci il Wolfi che bello che bellezza che bello che bello che bello condividere che bello che che ci si conosce tutti che bellezza mi fa sempre un sacco di piacere meraviglioso lo seguo sempre Amarantis è un è una è una personcina al Wolfi meravigliosa sono molto contento per i suoi cambiamenti per queste per queste sue avventure Liguri gioire per gioire per gli amici per le cose che bello che bello le community che si mischiano che si infregolano che bello Wolfi hai assaggiato immagino tu abbia assaggiato il vero pesto Ligure in una vera Giulia cosa sta succedendo in una vera trattoria genovese cosa mi dici vai sei abbastanza goto immagino Griff grazie della compagnia Griff e ricondivido il mio dispiacere per non non riuscire a ad esserci a Rucca Comis quest'anno ma con la speranza cioè no con la convinzione con 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 quello che sarà poi il il nostro incontro più più materico nel futuro meno prossimo ma Griff un bacio grande Amarantis Wolfie Griff è è è un è una persona che è un è un illustratore che 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 merita le vostre attenzioni per il per il poco che vi conosco vi vi piacerà vi piacerà molto quindi andate a vedere cosa cosa fa riporterò i saluti alla Ganza e alla Giulia e a presto Griff un kiss sulla gota sinistra ecco si parlava di Giulia appena cagato senti qua cosa abbiamo mangiato Giulia mortaretti che bello che bello che bello che bello io l'ho detto basta sentirci sì per esserlo forse non lo so ho un bel po' di faccione collezionabili beh sai cosa Griff e Wolfie scusami la natura stessa del progetto che mi porterà ad abbandonarle no per strada se tutto andrà bene appunto ad affiggerle no ci si affezionano alle cose che si fanno ma secondo me una giusta cosa anche psicologicamente da fare è proprio questa un bel trauma del genere lasciare pubblica una cosa lasciare lasciare che un'opera in uno spazio pubblico lo so è un gesto anche di fiducia no poi può essere benissimo tradita è tutto però non lo so mi sembra anche questa una una non so una scelta bella da fare basta da prendere vicino a casa così evito di suonare il campanello e sarò io da nominare chissà vediamo non voglio farmi illusioni strane però 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 io non vorrei essere non vorrei fare lo stronzolo amarantis mi capirai no spero ringraziandosi ancora per il ride io mi mi avvierei nel farne uno a mia volta chi raidiamo chi raidiamo ragazzi c'è pentotark c'è inchiostronauti inchiostronauti non lo so da che andiamo da che andiamo andiamo dai inchiostronauti dai andiamo dai inchiostronauti perché così dice così mi dice il corazon signori Wolfie è il che tu lo dica mi 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 rende molto felice e e spero di 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 riuscire a dellargirle geograficamente in maniera più ampia che posso ti ringrazio tanto e la prossima live magari che siamo un po' più tranquilli e che non sto per andare a letto mi racconti un po' come sta andando come sta andando il soggiorno ligure va bene ragazzi ragazzi miei dal più profondo del mio curicino appassito dalle vicissitudini della vita inserio dunque buonanotte Wolfie da questo da questo da questo da questo pietro stanco ma felice per 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 il progetto che sta sta per concludersi anche se è solo la produzione che si sta concludendo la progettazione eccetera manca poi la tua azione vera vi ringrazio della compagnia vi auguro una buona serata e ci sentiamo giovedì dove chissà cosa faremo chissà 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 un bacione a tutti da pietro da giulia da toriganza statemi bene e a presto un kiss da tanti ciao a presto